Ma zio, cos'è questo? È la migliore accademia di parrucchieri che esista al mondo! Non voglio che te ne vada, però capisco che un giorno dovrai volare per conto tuo! Per favore, torna a Natale! Non me ne vado! Per ora... Due anni più tardi! Questa è l'ultima! Onestamente, non capisco perché stiamo partendo con le nostre valigie! Zio, non so ancora se verrò accettata! Se voglio studiare lì, devo prima passare un colloquio con la direttrice! Che succede se non mi ammettono? Certo che lo faranno! La Vipera Academy è fatta per te e ce l'hai nel sangue! Inoltre io sarò lì come insegnante! Sì, diventerai la migliore parrucchiera del mondo! Eh? Eh, beh, la seconda migliore naturalmente! Stanno preparando tutto per partire! Dobbiamo entrare nel salone mobile e attivare il piano! Che piano? Come che piano? Se Fabia arriva a quel colloquio starà fuori per tanto tempo e si farà nuovi amici a Cat Town! Si dimenticherà completamente di noi! Oh no! Dobbiamo impedire ad ogni costo che arrivi all'accademia! Seguimi! Lady Gigi, aspetta! Zio, è pesante! Lascia che ti aiuti! No! Posso farcela! Guarda! Hai visto? E senza spettinarmi! Partiamo! Stile profusione I capelli, una passione Una VIP Segui i suoi sogni Una VIP Voglio diventare Non mollare mai Credi in te e brillerai Look da paura Inizia l'avventura! I love VIP! Voglio andare alla VIP Air Academy parte 1 Ehi, tu credi che funzionerà? Ah, stiamo proprio per scoprirlo! Ci siamo! Ehi, ma che... Proprio quando stavamo entrando a Cat Town Che ammasso di ferraglia Non capisco che cosa sia successo Beh, lo sistemerò in un momento Ma cosa stai dicendo? Arriverò tardi al colloquio Ce l'ho tra venti minuti Shara, corri Dobbiamo andarcene ora Buona idea, ragazze Alleggeriamo il peso Non è per questo, zio Arriverò in ritardo Vado lì a piedi Ne sei sicura? Ci vorrà solo un momento Va bene così Non è poi così lontano È veramente lontano E perché questa valigia è così pesante? Oh, aria! Ah, ho bisogno d'aria! Cosa stai facendo? Ci scopriranno! Lady Gigi! Nila! Che cosa fate qui? Le vostre padroncine saranno in ansia? Beh, noi volevamo... Organizzare un arrivederci Volevamo farvi una sorpresa È davvero molto gentile Ma io temo che non serva È troppo tardi adesso Non arriverò mai in tempo al colloquio E perciò non riuscirò mai A entrare nell'accademia Ah, ok Abbiamo rotto il salone mobile Cosa? Non volevamo che ve ne andaste Che ci dimenticaste per sempre Ah, questo non succederà mai Non vi avrei mai abbandonate Ad ogni modo È troppo tardi Non lo permetterò Mi è venuta un'idea Amiche? Siete sicure che questo funzionerà? Stai tranquilla Pronte? Via! Ah! Ah, attenti! Attenti! Ma dove sarà andata? Lady Gigi! Dove sei? Lady Gigi! Ehi! Lady Gigi! Ma dove può essere? Ciao! Ciao, scusami Hai visto una cannellina? Non è tornata a casa Cosa? Anche tu hai perso il cane? Anche tu? Il mio si chiama Nila La sto cercando da un po' Ah, mi chiamo Mia comunque Sono Giselle Piacere E perché non le cerchiamo insieme? Sono sicura che le troveremo prima Ehi! Una notifica Due cagnolini stanno provocando il caos a Cat Town Oh, questa è la mia Ed è con un'altra Guarda Sì, questa è Nila Sono a Cat Town Andiamo lì Grazie amiche Grazie mille Senza di voi non ce l'avrei fatta È stato un colloquio difficile Ma spero di entrare nella VIP Air Academy Ce la farai! Nila! Lady Gigi! Giselle, Mia! Cosa fate qui voi due? Fabio, il mio parrucchiere! Stiamo cercando Lady Gigi e Nila Sappiamo solo che sono state viste verso la piazza di Cat Town Nella piazza? È dove si trova la VIP Air Academy Credo di sapere dove siano Veloci! Spingete il salone mobile Cercherò di metterlo in moto Andiamo ragazze! Lady Gigi! Nila! Eccomi! Ciao, sono Fabia È un piacere Mi dispiace per le vostre cagnoline Sto per iniziare un corso qui alla VIP Air Academy E si sono intrufolate nella mia valigia Hanno pensato che non ci saremmo viste mai più Che cattivelle che siete! Eravamo preoccupate per voi Quindi, un'accademia per parrucchieri, eh? Wow, che bello! Amiamo il mondo delle acconciature Veramente? C'è un nuovo corso che inizia adesso Entrate a informarvi! Che ne pensi? Diamo un'occhiata? Certo! Oh, guarda! Dai, entriamo! Continua! Oh! Nelle puntate precedenti Air Academy Certo che lo faranno La VIP 3 e io sarò lì come insegnante Dire, dobbiamo entrare nel salone mobile E attivare il piano Arriverò tardi al colloquio E perché questa valigia è così pesante? Non volevamo che ve ne andaste Che ci dimenticaste per sempre Mi è venuta un'idea Pronte? Via! Grazie amiche, grazie mille Lady Gigi! Nila! Ciao, sono Fabia È un piacere Amiamo il mondo delle acconciature C'è un nuovo corso Che inizio adesso Entrate a informarvi Buongiorno Sono la signorina Beckett La preside della scuola Suppongo che siete qui Perché volete entrare Nella VIP Air Academy Se siete tutti pronti Ciao Scusate il ritardo La signorina Eili, vero? Una candidata a entrare in Academy L'Accademia non dovrebbe tardare Il suo primo giorno Bene Se siamo tutti qui Possiamo iniziare È Alexia Ed è in compagnia Ti presento a Zoe Ciao Le nostre padroncine Si sono conosciute l'altro giorno E vogliono iscriversi all'Accademia Anche le vostre? Sì Fantastico Wow Chloe Questo posto è così figo Andiamo Lexi Siamo in ritardo E ho sentito che la preside di questo posto Non è molto gentile Ops Silenzio Cominciamo proprio male La puntualità è cruciale Qui in Accademia Seguitemi Vi mostrerò la scuola Stile profusione I capelli Una passione Una VIP Segui i suoi sogni Una VIP Voglio diventare Non mollare mai Credi in te E brillerai Look da paura Inizia l'avventura I love VIP Voglio andare alla VIP Air Academy Seconda parte Tra queste mura Abbiamo formato I migliori parrucchieri del mondo Cool Che posto straordinario Vero? Sì Miley Anch'io preferirei Fare il tour da sole Sono solo io O ha appena parlato Con la sua cagnolina? Beh la verità è Che anche Shara e io Possiamo parlare tra noi Sul serio? E come fate? Beh per poter parlare con loro Dovete vivere un momento speciale insieme Certo Alexia tesoro Parla con me Mi piace un sacco Voglio iscrivermi Prego signorine Da questa parte Siamo arrivati All'aula principale Dove potrete imparare A creare le migliori Acconciature e i look Con le migliori attrezzature Che un parrucchiere possa avere Potrete imparare così tanto In questo spazio meraviglioso Sempre che dimostriate Di avere talento naturalmente Solo le migliori Arriveranno qui Vediamo Hailey Tu hai già esperienza Come parrucchiera Ma Devi migliorare Le tue abilità E anche tu Fabia Uscirete da qui Come parrucchiere professioniste Per quanto riguarda il resto Qual è esattamente la vostra esperienza Nel mondo delle acconciature? Beh io Io So fare le trecce Temo che non abbiate Quel che ci vuole Per stare qui Sul serio? Non ci posso credere Ragazze aspettate! Perché queste facce tristi? Cos'è successo? Hailey e io siamo entrate Ma le altre non ce l'hanno fatta Conosco la signorina Beckett Vi sta solo mettendo alla prova Mostratele il vostro potenziale Come studentesse dell'accademia Sono sicuro che cambierà idea Vuole vedere qual è il mio potenziale? Eccolo signorina Beckett Ci deve essere un modo per provarle Che abbiamo quello che ci vuole Aspetta! Credo di avere un'idea Fabia Abbiamo bisogno di te e di tuo zio Per aiutarci con le acconciature Certo, ma che intenzioni avete? Organizzeremo il più grande evento di hairstyling Che ci sia mai visto a Cat Town Ma come ci assicuriamo che lo venga a sapere? Ah, non ti preoccupare Lo scoprirà E non solo lei Perché funzioni La città intera deve venire a saperlo Io farò un magnifico cartellone Così tutti vorranno vedere Com'è una buona acconciatura Beh, io ho 15.000 follower Possiamo anche fare una diretta dal mio profilo Perfetto! Tu presenterai l'evento di fronte a migliaia di persone Neanche per idea Useremo il mio profilo Ma non posso parlare di fronte a così tante persone Sono timida Ma ci vuole una presentatrice Qualcuna audace Qualcuna forte Voglio gli altoparlanti qui adesso Questo evento è la mia chiave Per poter entrare nell'accademia L'abbiamo trovata Benvenuti al più grande evento dell'anno Seguite le tendenze infatto dei capelli Impazzite per le acconciature audaci Allora questo live show è per voi Questo sarà fantastico Come ti sei potuto dimenticare il phon? E ora cosa facciamo? Non sono abituato a questo stress, Fabia Non so come lavorare così Grande, il mio phon! Aspetta, questo non è il mio phon L'ho preso dalla packet Cosa? Ehi, non vi voglio stressare Ma non avete ancora finito? Chloe non può intrattenere la gente Ancora per molto Sta... Facendo cose strane Arriveremo alle acconciature tra un attimo Ma prima Che ne dite di un altro aneddoto divertente Sui capelli? Sapevate che ogni giorno Perdiamo tra 50 e 100 capelli? Oh no, i miei preziosi capelli! Ci siamo! Rainbow style! Pronti? Ci siamo? Finalmente! Il momento che tutti stavate aspettando è arrivato! Lexi e Lady Gigi! Avete mai visto un tale mix di colori? Lexi sembra un arcomaleno! E non perdetevi le onde di Lady Gigi! Stai davvero benissimo! È vero, continua così, Lady Gigi! Stai spaccando! Signorina Beckett, le piacciono i nostri look? Oh, ma che coincidenza trovarla qui! Non fate finta di niente! Non avevo scelta! Siete di fronte all'accademia? Potete iniziare a smontare tutto quanto! Perché avete passato il mio test! Anche se non siete parrucchiere Avete dimostrato di avere altri talenti Che vi aiuteranno a diventare le migliori hairstylist! Ci vediamo domani in classe! Non ci posso credere! Ragazze, voi riuscite a capire Alexia? Wow, questo vuol dire Che abbiamo un momento speciale! Sono così emozionata! Chloe? Heyla! Possiamo finalmente parlarci E non dici niente? Giselle, stai bene? I love you lucky! RICONOSCIMENTO FACCIALE IN CORSO Studente non riconosciuto Fantastico! Oh, sembri assonnata! Qualcuno non ha dormito stanotte? FIFA da primo giorno? No, Chloe Non sei nervosa? Domani è il nostro primo giorno Non posso dormire Tu puoi! Nulla di grave! Non vedo l'ora di iniziare le lezioni Diventare la migliore hairstylist di tutto il mondo! Tu? La migliore? Che carina! Mia, hai già imparato a fare un'attriccia? Stile a profusione I capelli una passione Una VIP Segui i suoi sogni Una VIP Voglio diventare Non molare mai Credi in te e brillerai Look da paura Inizia l'avventura! I love VIP! Haley? Siamo una squadra! Buongiorno, signorine! Le vostre compagne oggi studieranno con Fabio Voi avrete la fortuna ad iniziare il corso Con me Fortunato Capisco Non vuoi che io sia la tua insegnante, signorina? Oh, certo che sì Non volevo dire che io... Iniziamo Volontarie? Io, Miss Beckett Ho sentito cose meravigliose su di lei Glitter style! È straordinario! Grazie Ora è il vostro turno di mostrarmi di cosa siete capaci Vedete lì? È una roulette di colori Capace di combinare tutti i tipi di colori Voi dovrete usarla per creare la tinta perfetta Wow! Che bello! È fantastica! Oh, e ancora una cosa Lavorerete insieme come una squadra Che? Avete sino alla fine della giornata per creare il mix di colori Buona fortuna! Ehi, Miley! Vuoi giocare con noi? Certo! Si suppone che dovresti passarla Mi dispiace, è solo che non so come si fa Non ho nessun amico con cui giocare Non preoccuparti Ora, Nile, io saremo tue amiche Ecco qui! Un tocco di rosso aggiungerà potere al mix Buona idea! Blu? Bisogna mettere colori freddi Sono molto più eleganti Dobbiamo decidere insieme i colori È proprio quello che farei Se volessi fallire I can do it on my own I'm the best and you should know If I want it, I can have it Watch how I get to the top I've entered this academy To be the best that I can be I'm gonna make my dream come true Nothing can send in my way We think it's a big mistake You might think you're better off If you're flying solo Ay, ay, ay But the truth it is more fun To be a team, to work as fun Stay united, we'll go far If we go together We'll be good forever Nothing can stop us No, 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 no If we go together We'll be good forever Nothing can stop us No, 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 no I don't care about what you say I'm gonna do it my own way I don't need you anyway Keep on trying while I slay You won't kick me off my throne I don't care if I'm alone We all work together Same to be the best in the game Ha! I don't wanna, 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 wanna listen I don't wanna, 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 wanna listen I don't wanna, 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 wanna listen Stop the chitchat, I'm creating We think it's a big mistake You might think you're better off If you're flying solo Ay, ay, ay But the truth it is more fun To be a team, to work as fun Stay united, we'll go far If we go together We'll be good forever Nothing can stop us No, 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 no If we go together We'll be good forever Nothing can stop us No, 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 no Blue, rosso Blue, rosso Blue, rosso Blue, ah! 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 Beh, lo puliremo e basta No, la getta della Beckett Guardate, l'abbiamo macchiata È distrutta Non sarebbe successo niente se mi aveste ascoltata Ma se è colpa tua Non lasciavi stare la ruota Ragazze, smettetela Se lavorate insieme, sono sicura che riuscirete a sistemarla Ah, beh, forse hanno ragione È che queste macchie non andranno via Beckett voleva vedere una tinta straordinaria, giusto? Però non ha detto che doveva essere per forza sul busto delle acconciature Stai dicendo che... Beh, signorine, ammetto di essere intrigata Avanti, fatemi vedere La mia giacca è... Beh, ha parlato di una tinta straordinaria, ma non ha detto dove applicarla È incredibile! Il mix di colori, il design, le forme a spirale Sentite, ragazze So di non essere stata molto simpatica Suppongo che volessi impressionare la Beckett così tanto Che sono stata meschina con voi Quindi, siamo promosse? Certo che no Questa è una scuola di parrucchieri Non un negozio di vestiti Dovresti applicare la tinta al busto E anche velocemente Avete due minuti Sappiamo come fare, ragazze? Sì! Cos'è? Che succede? Forza, prendi il compito e andiamo! È chiusa! Siamo in trappola! Stile a profusione I capelli è una passione Una VIP Segue i suoi sogni Una VIP Voglio diventare Non mollare mai Credi in te e brillerai Look da paura! Inizia l'avventura! I love VIP! Qualche ora prima Il compito sorpresa In questo caso, invece, ragazze Abbiamo una colorazione molto più accentuata Visto come risaltano i riflessi? Lexi, Chloe Come dicevo, i riflessi di questo tipo vanno applicati dalla radice alle punte Allora, cosa c'è di tanto divertente? E così vi mettete a disegnare durante la lezione? Non fare così, Fabio Non è da te arrabbiarti tanto Già, tu sei un insegnante moderno Io sono moderno? Aspetta, no! Ora non mi prendete in giro Immagino che non seguiate la lezione Perché conoscete già la storia dell'acconciatura canina Perciò domani avrete una verifica Tutte e due Lexi, Chloe! Pronte per il concerto di stasera? Spero tu sia stata attenta a lezione Perché voglio un look con riflessi da urlo Non possiamo andarci Che cosa? Ma abbiamo preso i biglietti da settimane Fabio domani ci fa fare un compito Perché non seguivamo la lezione sui riflessi Anche se vi potessi fare quei riflessi subito Non saprei come, mi dispiace Beh, suppongo che dovrò andarci con la solita acconciatura Qualcuno ha detto riflessi? Ci penso io! Bubbly Style Wow, sei straordinaria! Questo look ti sta benissimo! Grazie Giselle, ci vediamo ragazze Questo concerto sarà il migliore di sempre Già, e noi ce lo perderemo Ma non preoccuparti Ci bastano un paio d'ore a prepararci per il compito È un gioco da ragazzi Ragazzi, ecco i libri per il compito di domani Vi lascio al vostro lavoro Io ho parecchio da fare Benvenuto Fabio Le acconciature dell'antichità Breve storia del tupè Come può Fabio aspettarsi che studiamo tutta questa roba entro domani? Adesso vado da lui e glielo dico Non ci può fare questo Ferma, guarda Sono le domande del test Splendido Basta aspettare che diventi buio e potremo rubarle dalla scrivania Sembra di essere in un film È chiusa Cosa facciamo? Rilassati Ho tutto sotto controllo Benvenuto Fabio Sei la migliore È stato il miglior concerto della mia vita Mi sono divertita un sacco Zoe, guarda là C'è qualcuno in classe Dei ladri Presto dobbiamo suonare l'allarme Adesso è il nostro Cos'è? Che succede? Coraggio Prendi il compito e andiamo È chiusa Siamo in trappola Ci hanno chiuse dentro Non è divertente Sta arrivando la polizia Per il furto di un compito? Chloe? Sei tu? È Zoe C'è Alexia con te Dovete farci uscire da qui Che ci fate lì dentro? Volevamo rubare il compito di domani Ma abbiamo fatto un pasticcio Aprite la porta presto Provate con questa Se Fabio ci sorprende Verremo espulse Attenzione ladri Non identificato Non identificato Non identificato Non ci riesco Chi è là? Ragazze Voi cercate di aprire in qualche modo Noi lo distraiamo Zoe Alexia È tutto a posto Cos'è successo? Quanti sono i ladri? No Fabio Eravamo noi Cosa? Insomma abbiamo Premuto l'allarme per sbaglio Siete sicure? È meglio che dia un'occhiata È solo che Che c'è un topo enorme Un topo? Sì Lo dobbiamo trovare È andato da quella parte Coraggio Ci sono Questo trucco È sempre funzionato Beh Benvenuta nel ventunesimo secolo Questa porta è digitale Oh Io voglio uscire È la quinta volta Che controlliamo Nei dintorni Non lo so Ho la sensazione Che mi stiate nascondendo qualcosa Noi? Figurati Troveremo quel coniglio Vedrai Coniglio? Non avevate detto Che era un topo? Beh sì Infatti Un topo coniglio Perché in questa stagione È pieno Adesso basta Io torno dentro Voglio scoprire Che sta succedendo Voglio uscire da qui Fatemi uscire Ascolta Arriva qualcuno Bene finalmente No Non va bene Se ci beccano a rubare il compito Saremo espulse Bentornato Fabio Un momento Qui Mi sembra sia tutto in ordine Falso allarme Mi tremano le gambe Ci è mancato tanto così Che fossimo espulse Forza Chloe Abbiamo un sacco da studiare Beh visto che abbiamo qui le domande Non ti è bastata questa lezione D'accordo Ben fatto Chloe Come è andato il compito? L'ho acceccato Fantastico Non avete dormito Ma avete imparato tante cose Perché non andiamo in centro A mangiare qualcosa? Forza Dobbiamo festeggiare Che cosa ne dite? Ragazzi I love VIP Buongiorno Oggi ho una novità importante da comunicarvi Conosco una cantante Lily Joy Forse il nome vi dice qualcosa Sta girando il suo nuovo video musicale a Cat Town E vuole scegliere una studentessa dell'accademia Per occuparsi dell'acconciatura per il video Che forte! Wow! Che bello! Ma come la sceglierà? Beh per la scelta Ognuna di voi proporrà un look Li manderemo a Lily Joy E nel pomeriggio ci farà sapere cosa ha deciso Stile profusione I capelli una passione Una VIP Segui i suoi sogni Una VIP Voglio diventare Non molare mai Credi in te e brillerai Look da paura Inizia l'avventura I love VIP Non espellermi dall'accademia Provaci di nuovo Beh Hai ancora un buon margine di miglioramento Però siamo qui per questo Giusto Mia? Molto bene Ailey Una proposta veramente originale Vai avanti così Notevole Lexi Continua Fai ad Alexa l'acconciatura che hai disegnato Talent style Fabia Raggiungimi più tardi al caffè Ho bisogno di parlarti da sola Ok? No Fabia Lo sai com'è fatta la Beckett? Ragazze Io credo che voglia espellermi Come? No Di sicuro non è così È davvero ingiusto Mi sono impegnata così tanto E la Beckett vuole farmi fuori Lo sai cosa faccio io Quando mi sento arrabbiata? Scrivo quello che provo Sopra un foglio di carta Butto fuori tutta quanta la rabbia E poi strappo il foglio E lo getto via Così mi libero dalla rabbia La Beckett non valorizza i suoi studenti L'accademia sarebbe migliore Senza di lei Molto bene Ely Cosa stai facendo Fabia? Niente È soltanto che non mi piaceva Come stava venendo il mio disegno Quindi ora mi sa che andrò a... Fabia! La lezione non è finita È ora di esercitarsi con l'extension Sì, sì, Lily e Joy Stanno lavorando a sodo Ok No, no, non preoccuparti Vedrai che sarai contenta Sì Ci sentiamo dopo Ciao Fabia, un attimo solo Salve, Miss Beckett So perché voleva vedermi Oh, davvero? Se mi vuole spellere Lo dica e basta No! Forse sono stata troppo dura con te Ma se sono esigente È perché so che puoi creare Qualsiasi cosa tu voglia Fabio mi ha detto Quanto ti sei impegnata Per essere qui Se continui a farti bloccare dalla paura Alla fine rinuncerai alla tua passione Ed è un peccato Perché se pattinare è il tuo sogno Non dovresti smettere Il bigodino ha funzionato Gwen, non è stato merito del bigodino È stato merito tuo Sei stata grande Perché hai creduto in te stessa In realtà non avevi quel bigodino Durante l'esibizione Non ne avevi alcun bisogno Cosa? Ho fatto sì che tu credessi in te Ho avuto un'altra idea Considerando tutta la tua esperienza Perché non aiuti le altre ragazze A migliorare i passi O magari le ispiri, ad esempio Hai dimostrato di essere bravissima Ah zio sei il migliore Non sarei nessuno senza di te E senza le nostre amiche di Pets Amethyst Style Un look meraviglioso come il tuo cuore Se continui così Farai molta strada Ehi, com'è andata con la Beckett? Che cosa ti ha detto? Ah, no, non era niente Anzi, in realtà è stata molto carina Quindi, come mai sei nervosa? Il foglio L'ha portato via Shara E se lo trova la Beckett è finita Cosa? Ho fatto quella cosa che mi hai detto Di buttare fuori la rabbia Scrivendo tutto su un foglio E ho scordato di gettarlo via Forza ragazze Siamo pronte per la videochiamata Vediamo chi accuncerà i capelli Della nostra star Lily Joy, ben trovata È un piacere averti insieme a noi Il piacere è tutto mio Che fortuna avere delle parrucchiere così talentuose Hai fatto la tua scelta, giusto? Esatto Ho deciso che... Non ora Che cos'è? Solo un attimo, Lily Joy Scusa Oh no, no No Che succede, Fabia? Cos'è quel foglio? Fammi vedere Qualcosa non va? No, no, niente Scusi, Miss Beckett È solo... È una lettera per le mie amiche Che gesto carino, Fabia Ma non è il momento più adatto per... Oh, mi piace Sì, sì Leggile pure, Fabia Sì, ma certo Benissimo Ora la leggo Ci sono... È molto difficile Fare il parrucchiere Essere il migliore del mondo Ma grazie alle mie amiche Ogni giorno per me è come un sogno Oh, Fabia Ma è... Meravigliosa! Falla sparire subito Bene Dopo questo bel momento Lily Joy Dici cos'hai deciso Il mio pezzo riguarda l'amicizia Perciò Voglio che tutte voi Mi facciate i capelli per il video Mi sa che li preferisco Lishi No, anzi Con qualche onda Non lo so Ci stai facendo impazzire Lexi ha ragione, Mia È solo un appuntamento A quanto pare stai perdendo la calma Per una volta Rilassati Andrà tutto bene Fidati Sarai splendida Cosa dici? Siamo pronte? Cominciamo Pronta? Butterfly style Qualcosa non va? Stile a profusione I capelli una passione Una VIP Segui i suoi sogni Una VIP Voglio diventare Non mollare mai Credi in te e brillerai Loop da paura Inizia l'avventura I love VIP Il primo appuntamento di Mia Cosa mi avete fatto? Che cosa è successo? Non riesco a capire Mi prude dappertutto Pizzica È davvero strano Abbiamo fatto come al solito Cioè? Beh, è la prima volta Che usiamo questo gel Per il volume Potresti essere allergica Cosa? Ora chiamo il numero Sull'etichetta Di sicuro avranno una soluzione Pronto? Abbiamo un piccolo problema Una reazione allergica Già Spero che passi presto Non farò in tempo Per l'appuntamento Ok La ringrazio molto Che cosa ti hanno detto? Come rimediamo? Stai tranquilla È un'allergia Che andrà via da sola In un paio di settimane Non mi prendete? Che prurito Sì, anch'io Mi prude tutto Cosa vi succede? Dove diamine siete state a giocare? Avete le pulci! Settimane! L'appuntamento è nel pomeriggio Bisogna fare qualcosa Mia, restiamo calme Vedrai che ci verrà un'idea Proviamo con un po' di questo E questo Pronto? Visto? Ora non si nota quasi più niente Potrai andare al tuo appuntamento Contenta? Non sono troppo arancione? Per niente Stai benissimo Non lo so Sembra ancora strana Non lo noterà nessuno Vedrai Mia Che ti è successo? Sembra tu abbia messo la testa In un sacchetto di Citos Sono sicura che stia esagerando? Non credo proprio Sono spaventosa Dovrò annullare l'appuntamento Parassiti Piccoli insetti succhi a sangue Tranquille La risolveremo Ma prima Vi devo isolare Che vuoi dire? Isolarci? Torno con la lozione per le pulci Non vi muovete da qui Mia Mia Aspetta Aspetta Ferma La faccia piena di Popcorn Che seccatura Queste pulci Già Avete rovinato il nostro gioco Ora vedrai Focca Sciara Vieni qui Nila Non scampare Prendimi Nila Ciao Hai visto Mia? Sì È appena corsa via in quella direzione Ma cos'hanno tutti quanti? Aiuto No 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 Mia Finalmente ti ho trovata Ho un aspetto orribile Beh non ha importanza Quello che tu hai dentro Farebbe innamorare chiunque Credi davvero? Assolutamente E comunque La situazione non può diventare peggio di così Per fortuna non ci ha preso Insomma Come dicevo Perché? Perché? Capitano tutte a me? Mia? Mia? Nila sto arrivando Nila sto arrivando Nila Nila Sto arrivando C'è mancato poco Per fortuna stai bene Come sei finita lì dentro? Le pulci Mia Sei stata incredibile Come ti sei lanciata E quel salto e... Cosa? Cosa c'è ora? La tua faccia La mia faccia? Che cos'ha? Che colore è? Ah È andato via tutto Non era allergia Era la tinta Ero così nervosa Per l'appuntamento Che non mi era venuto in mente Mia no Che cosa fai? Ciao Fabio Come stai? Nila è piena di pulci Ripensandoci Credo che dovresti cancellare Quell'appuntamento Dopo aver tagliato i capelli Applicheremo le extension Visto? Ma prima dividiamo i capelli In shock Nila? Nila dai Basta giocare Vieni qui Allontana le forbici Non voglio tagliare i capelli Quando ti metterò le extension Avrai dei capelli lunghissimi Ho bisogno di allenarmi Tutto bene là in fondo? Sì Comincio subito Devo solo... C'è un busto per acconciatura? Un ragno! C'è un ragno gigante Sul mio intreccio capelli Su, avanti Calmati Non sarà questa gran cosa Giselle Se ne è andato Scommetto che era belenoso Dai Giselle Era semplicemente un ragnetto Cosa farai Se ne troverai uno Quando avrai un tuo salone? Userò l'insetticida Devi superare Le tue paure Stile profusione I capelli Una passione Una VIP Segui i suoi sogni Una VIP Voglio diventare Non molare mai Credi in te E brillerai Look da paura Inizia l'avventura I love VIP Giselle È solo un ragno Tutti noi Abbiamo delle paure È perfettamente normale Infatti Vedrai che ti aiuteremo A vincere la tua Non so se ne sarò capace Davvero Solo a vedere quelle zampe pelose Inizio a tremare tutta Sai cosa Giselle? Mi hai fatto venire una grande idea Non so se questa cosa mi piace ragazze Se non le vedi Sono certa che non ti daranno tanto fastidio Infila la mano nella scatola E vedrai che non succederà nulla Non lo so Sta tranquilla Puoi farcela Oh Com'è morbido Sembra seta È un baragnatelo Giselle Stai calma Tranquilla Erano solo capelli Non mi importa Basta così Non voglio fare questo gioco Ma ti resta ancora una scatola? Non fa niente Lasciamo stare ragazze E torniamo in classe Per caso hai un piano B? Oh che forza Cos'è giochi all'ascondino? Non è un gioco È una cosa seria Sto cercando di proteggermi da Mia Da Mia? Ma di cosa stai parlando? Finché mi lavo i miei petti nei capelli va bene Ma tagliarmeli No, mai Oh, è questo il problema Mia vuole solo usarti per fare pratica con il VIP trend Ti tagliano una ciocca E ti mettono delle extension fantastiche Avrai una chioma lunghissima Hai visto che belle? Wow È per te quel look Beh, sì ma Lo ammetto L'idea di tagliarmi i capelli mi fa paura Fin da quando ero piccola Capito a tutti di aver paura di qualcosa Prima o poi Ricordo che qualche anno fa Ho fatto un sogno stranissimo Stavi felicemente dipingendo Quando è apparsa una nuvola scura all'improvviso Sei stata brava Alexia Sei arrivata in finale Sì ma ero molto nervosa Vedevo nuvole nere ovunque Oh, povera cagnolina Vedi Stella Non dovevi raccontarle nulla dei tuoi sogni Dovresti smettere di essere così superstizioso Giusto Alexia Il tuo talento è l'unica cosa che conti Sei una big bez Sapete, anch'io ho superato la mia paura dei mostri Adoro andare a fare shopping con voi E se incontreremo un mostro Lo spaventeremo di certo Cari followers Rieccomi qui Pronta per fare dello shopping Oggi nessun mostro mi spaventa Non mangiarmi Voglio solo fare shopping Lady Gigi È solo il pupazzo gonfiabile del centro commerciale Vedete followers I mostri non esistono La verità è che insieme riusciamo sempre a fare tutto Scusaci tanto Maya Forse siamo state insistenti E anche un po' prepotenti Tu balli così bene Io... Dovresti partecipare al talent show Amiche Ora calmatevi Ecco, io non posso partecipare al talent show Ma perché? Dovete scusarmi ma non sono brava Come pensate? Stai scherzando? Tu balli benissimo Guarda il video che abbiamo registrato in spiaggia senza che tu lo sapessi Ma non riuscite a capire? Non riesco a ballare quando qualcuno mi guarda Non riesco proprio a muovermi Dobbiamo fare qualcosa Ma come la possiamo aiutare? Deve essere più sicura di sé Il problema è che si nervosisce quando mentre balla ci sono persone attorno, giusto? Aspettate, mi è venuta un'idea Per cominciare... Già, se tutte voi siete state in grado di farlo Anch'io posso riuscire a vincere la mia paura Sì Ma perché devo essere l'unica che si spaventa? Vorrei avere il vostro coraggio No! L'ascensore si è fermato Non respiro Mi fa paura restare chiusa qui dentro Ehi, lì, cosa ti succede? Ehi? Che aspetta la luce? Aiuto! Aiuto! Io ho paura del buio Spetti di gridare così Stai consumando l'ossigeno Ragazzi, vi prego, cercate di calmarvi Non c'è bisogno di spavent... Ehi, non sono l'unica fifona Calmatevi Adesso ci penserò io Ragazzi, adesso ho capito Tutti abbiamo delle paure Ma dobbiamo affrontarle Posso farcela Brava, Giselle! Ce l'hai fatta! Hai vinto le tue paure! Ciao, ciao, piccolo ragno Nila, dove eri andata? Te lo dico dopo Ora prendi le forbici Facciamo quel look Puoi contarci! Extensions Style Wow, che acconciatura! La adoro! Zucche, costumi, caramelle Adoro Halloween Qualcuno ha detto Halloween? Noi stiamo andando nel posto più spaventoso di tutta Catania Un luogo che nasconde una leggenda terrificante Potete venire con noi Se ve la sentite Stile profusione I capelli una passione Una VIP Segue i suoi sogni Una VIP Voglio diventare Non mollare mai Credi in te e brillerai Look da paura Inizia l'avventura I love VIP L'incantesimo della fontana La fontana Ci siamo già state un milione di volte Già, non sembra così spaventosa Oh Sì, però stasera è diversa Perché Halloween può succedere di tutto In the night of Halloween The fontan legend lives again By now you should know Spooky Halloween Trick or treat Hunting presences You can see That it's not be real Make a scene Spooky Halloween If your toes are going unfair You know something's not going well Cause you'll forever disappear Spooky Halloween If you don't Hunting presences Burling me That it's not be real You can try If you dare Spooky Halloween If you don't Hunting presences Burling me That it's not be real You can try If you dare Ragazze, forse ora dovremmo andare Credete veramente a queste sciocchezze? Nessuno può scomparire È una leggenda C'è solo un modo per verificarlo Allora, ne hai il coraggio Ehi, pesce! Noi tre non abbiamo paura Visto? È tutto a posto Che cosa guardate? Avete visto un fantasma o cosa? Ma dov'è? Giselle Le tue gambe Era vera! La leggenda era vera! Ma ora stanno scomparendo! Andiamoci! Stiamo scomparendo! Siamo invisibili! Quanto amo la notte di Halloween! Scappate! Non crederete a quello che ci è successo! Eravamo con Selena e... Wow! Dove staranno andando così di corsa? Ragazze, non ci sentono! Lady Gigi, sono qui! Che strano! Sembravano spaventate! Già! Neanche avessero visto un fantasma! Ragazze, non possono vederci! Dobbiamo trovare un modo per farci notare! Ci penso io! Fantasmi! Nascondiamoci nell'accademia! Fermi! Siamo noi! Andiamo! Sono qui dentro! Guardate! Sono sotto la scrivania della Beckett! Sono terrorizzate! Ma non possiamo farci niente! Non ci vedono! Non ci sentono! Come possono capire che siamo noi? Mi è venuta un'idea! Fa che non ci trovino! Fa che non ci trovino! Shara! Ragazze, il fantasma mi ha preso! Salvatemi! Magic Style! Wow! Soltanto Fabia riuscirebbe a farlo! Non capisco! Come è possibile? Il fantasma è Fabia! Ne sono sicura! Chloe! Giselle? Ma cosa ti è successo? Noi non abbiamo niente da dirvi! Chloe! Sentite, è una cosa importante! Allora, c'è un modo per sciogliere l'incantesimo? Ci dispiace tanto, ragazze! Noi volevamo soltanto farvi uno scherzo! Stando alla leggenda! Per scioglierlo bisogna gettare un'altra moneta dentro la fontana con i primi raggi del sole! Sennò l'incantesimo durerà per sempre! E resteranno invisibili? Per sempre? Dobbiamo sbregarci! Chloe, presto! Lancia una moneta! Non ho più monete! Guardate! Sta sorgendo il sole! Resteremo così per sempre! Una moneta di cioccolato! Spero che funzioni! Oh no! Non l'hai lanciata in tempo! Non ne rivedremo mai più! Saremo invisibili per sempre! Siete tornate! Riuscite a vederci? Allora non siamo più invisibili! Sì, l'incantesimo si è spezzato! Ragazze, mi dispiace avervi messo in questo guaio! È proprio vero che tutto è possibile ad Halloween! Vuoi scherzare? Estate il migliore Halloween di sempre! Fabio, grazie di prestarci il tuo applicatore di glitter! Ma è lì! Non vedo l'ora di sfoggiare la sua conciatura speciale, Anji! Vero, Eili? È vero, Fabio! Tu sei il migliore! Non c'è di che, però sbrigatevi! È già tardi e la Beckett inizierà la consegna dei diplomi senza di noi! Ho tanto sonno! Non mi stupisce, non dormi da una settimana! Lo so, ma ero così nervosa per questa storia del diploma! Dov'è l'applicatore di glitter? Fabio aveva detto che era qua sopra! Sì, ma... Sopra che cosa? Cerchiamo ancora, deve essere qui da qualche parte! Oh! Oh! Mi era addormentata! Wow! Deve essere una delle invenzioni di Fabio! Mi chiedo se sia per... Oh! Eili, cosa hai toccato? Oh, che cos'è quello? Ragazzi? Stile profusione, i capelli una passione! Una VIP, seguo i suoi sogni! Una VIP, voglio diventare! Non molare mai! Credi in te e brillerai! Look da paura! Inizia l'avventura! I love VIP! Abbiamo un piccolo problema! Cosa? Che cosa vi è successo? Ma siete gigantesche! Eili? Non sono loro essere gigantesche? Siamo noi che siamo piccolissime! Oh no! Ma com'è possibile? Non saprei! Forse è perché tu hai toccato un casco che diceva chiaramente non toccare! Forse! Ma se c'è rimpicciolito potrà riportarci alle dimensioni normali! Ci basterà attivarlo di nuovo! Siamo pronte! Miley, schiaccia il bottone! Non si accende! Ragazzi, credo che il casco si sia bloccato! Guardate là! Deve essere un blocco di sicurezza! La forma e il colore mi ricordano qualcosa! Oh! Un momento! Sì! Ho visto qualcosa di simile nel salone mobile di Fabio sul suo portachiavi! Ottimo! Allora andiamo a chiederlo a lui! Sei impazzita! Fabio non deve saperne niente! O non ci farà partecipare alla consegna dei diplomi! Dobbiamo prenderglielo di nascosto! Ciao ragazze! Wow, Fabia! Che look fantastico! Grazie mille! È il mio look da diploma! Ragazze! Haley e Lexi non ci sono ancora! Cosa? Ma comincia tra mezz'ora! Se lo venisse a sapere la Beckett non ci diplomeremmo! Attenzione! D'accordo! Ora dobbiamo solo attraversare la strada! Già! Niente di che! Boh! Facile facile! Non credo sia una buona idea! È tutto ok! Cosa può succedere? Oh no! Oh no! Attenta! Oh no! Non posso guardare! Ragazze! Mi sa che non è così facile attraversare! Ora! Ehi! Ma che cosa? Fermi! Cosa fate? Oh scusaci Fabio! È solo che stavamo giocando e sai com'è? Ci dispiace Fabio! Che disordine Fabio! Eccolo ci siamo! Insomma non c'è tempo per giocare! Sta per cominciare la cerimonia! Oh! Quanto pesi! Mi devi spingere un pochino più in alto! L'ho preso! Adesso tira! Tira spingi! Tira spingi! Deciditi! Coraggio! Ancora un po'! Ancora un po'! Ma non mollare! L'ho preso! Dove sono le ragazze? Ci stanno mettendo una vita! Faremo tardi! Ho fatto un sogno spaventoso! Non c'è tempo da perdere! Abbiamo trovato l'applicatore di glitter! Andiamo! Fabio è impaziente! Dobbiamo muoverci! Perché ci avete messo tanto? Non ce la faremo! La cerimonia sta per iniziare! Mi dispiace tanto, Miley! Non so se ho il tempo di farti l'acconciatura! Hai cinque minuti! Non di più! Non voglio arrivare tardi! Cinque minuti per un'acconciatura? È impossibile! Puoi farcela! Mostra ciò che abbiamo imparato! Tranquilla, Ellie! Ho fiducia in te! Miley, preparati! Stardust Style! Oh, Ellie! Sei la migliore! E appena in tempo! Finalmente! Presto! La Beckett sta per iniziare! Care studentesse! Nel corso di questi mesi, ognuna di voi ha dimostrato che la sua tecnica la rende unica come parrucchiera! In queste valigette abbiamo preparato un accessorio esclusivo che ognuna di voi è in grado di usare come professionista! Quindi, congratulazioni! Potete venire a prendere la vostra valigetta! Con impegno e perseveranza avete realizzato i vostri sogni! Sono fiero di te, nipote! A partire da oggi, siete delle parrucchiere professioniste! Siete pronti! Forza! Riuniamoci tutti per fare una foto! Dobbiamo immortalare questo momento! Arriviamo! Sì, anche noi! I love you! I love you!